Quando noi digiuniamo, se digiuniamo, ma è uno dei tre esercizi spirituali come ci ricordava ieri sera il pastore Gerardo, bisogna chiedere aiuto allo Spirito Santo. Necessitiamo l'aiuto dell'Espirito Santo, che sia un digiuno di un giorno, o due, o tre, perché abbiamo bisogno della forza soprannaturale per affrontare questioni naturali dell'uomo. Per poter affrontare questioni naturali dell'uomo. Natural. Bisogna avere la forza soprannaturale. Gesù, quindi è tornato, cioè lì fu riempito di Spirito Santo nelle acque battesimali, fu battezzato nello Spirito, riempito dello Spirito, e andò nella pienezza dello Spirito in ritiro. E poi, dopo, tornato, nella potenza dello Spirito Santo, iniziò a predicare la missione sua che gli era stata affidata. Amen? Sì o no? Bene? Cosa succede? Che lo Spirito di Dio è la presenza, la manifestazione del Regno di Dio. E la presenza, la manifestazione del Regno di Dio. Cosa abbiamo detto? Che dijimo? Noi siamo annunciatori del Regno di Dio. Nosotros annunciamo il Regno di Dio. È vero, noi annunciamo la salvezza per entrare nel Regno di Dio. È vero, noi stiamo annunciando la salvazione per entrare nel Regno di Dio. Se non annunci il nome della porta, anche se vuoi entrare nel Regno, se non passi dalla porta non ci entri. Se non annuncia il nome della porta, per entrare, non può entrare. E questo nome è solo un nome, ha solo un nome questa porta, Gesù Cristo. E questa porta ha solo un nome, Gesù Cristo.